Aggancio riuscito. Dopo due giorni di viaggio, il Soyuz MS-07 ha raggiunto la stazione spaziale internazionale. A bordo, l'astronauta russo Anton Shkaplerov dell'agenzia Roscosmos, il nipponico Onori Shige Kanai dell'agenzia per l'esplorazione aerospaziale giapponese e lo statunitense della NASA Scott Ingle. I tre, che erano partiti domenica dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, trascorreranno sulla stazione spaziale internazionale oltre quattro mesi, al fine di portare avanti oltre 200 diversi esperimenti scientifici. Shkaplerov, Kanai e Tingle hanno raggiunto il comandante Alexander Misurkin e gli astronauti della NASA Mark Van de Hey e Joakaba della cosiddetta spedizione 54, che già da settembre erano sulla stazione spaziale internazionale.